Allora c'è uno spazio al secondo piano, prima di tutto è stato rifatto completamente l'ingresso, quindi la zona d'ingresso. Dopodiché oggi presentiamo anche il trasloco della Biblioteca dei Ragazzi da una palazzina che era qui di fronte a questa che è la sede centrale, con uno spazio raddoppiato rispetto alle origini. E poi l'altra chicca, l'altro gioiello che presentiamo oggi è il secondo piano, quindi la sala consultazione che è la sala normalmente utilizzata dagli studenti universitari e dagli studiosi e sempre sullo stesso piano è stato rinnovato anche l'auditorium con un impianto di videoconferenza che ci consentirà per esempio la diretta streaming. Oggi abbiamo riconsegnato e riconsegniamo alla città di Foggia una biblioteca più grande, più nuova, meglio attrezzata. Tutti i foggiani da cinque anni a questa parte erano in attesa di ricevere una struttura migliore. Abbiamo migliorato le condizioni di lavoro dei dipendenti aumentando l'orario di lavoro e quindi la Regione Puglia investe qui quasi 6 milioni di euro per dare alla Puglia intera una biblioteca che è indubbiamente tra le più importanti della Puglia e tra le più importanti del Mezzogiorno. Questo a riprova dell'attenzione che il Presidente Emiliano e la Giunta regionale pugliese hanno nei confronti di questa terra della provincia di Foggia e questo è un emblematico intervento su un pezzo di cultura frequentato da tante ragazze e ragazzi, da tanti studenti e da tanti studiosi che amano questo luogo da anni. Questa biblioteca quattro anni fa quando noi abbiamo cominciato il mandato era stata sostanzialmente giustiziata, non stava più in piedi, la provincia non era in grado di gestirla. Quindi la Regione l'ha acquisita ed è stato il primo passo importante. Dopodiché abbiamo consolidato tutti i rapporti di lavoro che erano legati a questa struttura, abbiamo anzi rafforzato da questo punto di vista il personale e poi oggi abbiamo completato una serie di lavori che rendono questa biblioteca che è una delle più importanti biblioteche del Mezzogiorno e sicuramente della Puglia. L'abbiamo dotata anche di nuovi dispositivi anche tecnologici, anche banali come il Wi-Fi, ma in generale sono stati fatti una serie di lavori molto importanti. Quindi il lavoro incessante che è stato fatto in questa provincia in tutti questi anni, che sono però passati molto rapidamente nell'intensità del lavoro, evidentemente ci hanno portato oggi ad una giornata di particolare soddisfazione e felicità.